Ottimismo, colazione, è quello che ci vuole dopo la notte che ho passato alla stazione. Se vedo mani intorno all'osso, ad abbagliare i cani, forse è il momento giusto di saltare il fosso. Non abbassare lo sguardo con nessuno, fuori da un brutto sogno con le mie idee. Non c'è bisogno pure di farsi male, voglio soltanto farmi rispettare. Io ci sarò, con tutto il mio entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è. Ora io ci sarò, con tutto il mio entusiasmo, con tutta la rabbia che c'è in me. In me.